Personaggio controverso perché, insomma, per certi versi è stato criticato anche aspramente da alcuni esponenti della comunità scientifica. Queste critiche, non so dirvi se siano giuste o meno, io per quanto mi riguarda non ho ancora deciso qual è la mia visione a proposito di Sachs. Sicuramente ha scritto dei libri interessanti, dei racconti, se vogliamo, anche se basati su storie vere, molto molto interessanti. Dal punto di vista scientifico non mi esprimo, anche perché, diciamo, alcune critiche a mio parere gli sono state mosse anche perché lui era, insomma, una sorta di influencer scientifico. Però fate conto che parliamo della seconda metà del Novecento, inizio 2000, quindi un periodo nel quale l'influencer, e metto delle virgolette, di ambito scientifico non è che fosse granché ben visto.